L'attuale modello di gestione dei RAE, i rifiuti elettrici ed elettronici, presenta delle criticità che è bene affrontare in vista del nuovo scenario richiesto dall'Europa. A fare il punto, mediante lo studio, il Sistema Nazionale di Gestione dei RAE remedia il consorzio collettivo che si occupa della gestione ecosostenibile di questa tipologia di rifiuti. Entro il 2019 l'Italia dovrà raccogliere l'85% del totale dei rifiuti elettrici ed elettronici generati ed avrà invece tempo fino al 2014 per mettersi al passo con la nuova direttiva europea in materia. Questo, secondo il consorzio, significa un incremento dei volumi di raccolta stimati in 980.000 tonnellate di rifiuti e un innalzamento dei costi di sistema che potrebbero raggiungere i 740 milioni di euro, cifra notevole paragonata agli attuali 180. Gli oltre 2 miliardi di rifiuti derivati dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nelle case degli italiani non seguono tutti il sistema ufficiale dei consorsi collettivi per lo smaltimento e di riciclo. Esiste un canale informale, sottolinea Remedia, fatto di operatori commerciali che si occupano della raccolta senza essere in regola con gli standard richiesti e senza garantire tracciabilità allo Stato. Di qui la proposta del consorzio, un cambiamento a livello normativo che impedisca agli operatori non ufficiali di sottrarre una parte consistente di rifiuti tecnologici ed ancora un lavoro di ottimizzazione dei modelli di raccolta con l'impegno degli enti locali e della distribuzione.